Ehi bimbi, ma voi lo sapevate che un giardino può contenere dei tesori? Guardate un po'. Ma lo sapevate che passeggiando nel giardino si potevano trovare dei tesori? A lui è un po' gelosa perché quando parlo di tesori di solito parlo di lei. Ho raccolto dei sassi, dei legnetti e ho trovato persino una ghianda. Poi mi sono chiesta che cosa potevo realizzare con queste cose. Beh, guardate se questo legnetto non sembra proprio un ranocchio, pronto a spiccare un bel salto. E questi sassolini? Non vi sembrano Mamma Petit Rosso con il suo pulcino? E tu a lui, che dici? Assomigliano vero tesoro? Bene, ora aspetto le foto dei vostri lavori. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!